Oho, 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 cosa sto sentendo? Oho, aha, oho, aha, oho, aha, 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 beh? Oho, aha, 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 aah, e niente. Questo qui è il gioco dei Magalli Nudi. Il gioco dei Magalli Nudi, ne avevo parlato, avevo detto che lo avrei fatto da qualche parte, andiamo a vedere come di cosa si tratta sandbox facciamo, facciamo estate inverno perché mi piace la neve ballo, ballo, muovo i seni, eccoci, eccomi io sono chi sono? una delle lollipop chi sono? andiamo a vedere un po' papà natale, prendo la macchina i magalli nudi, eccoli, che brutto che sei, mamma mia che schifo Ronaldinho, quando vedi le note fa, del Piero, ma poverino, gli ho spaccato la faccia ma sei ancora vivo, sei magico, guarda che c'hanno il culetto tutto duro Ronaldinho, è esploso, in fiori ah, aia, 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 eccolo qui, prendiamo qui, vieni Paolo Brosio, e l'hanno zittito anche mentre corre, ma vai, cosa succede con quel rumore, ho troppe informazioni nella mia testa, non riesco, allora un'altra nota musicale, vediamo che rumore fa questa, che cambia rispetto all'altro, è importante questo, è importante, questa qui, invece sitten sono da dadadà, ridono i maledetti gli pavori, ecco di qua parliamo, come si parla ma scusami 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 non lo E allora vai via, scusa. Cosa succede? Ah, aiuto! Troppo, troppo i cosimi! Che sei tu? Che paura! Mi farò da stiro? Ma non posso... Ma scusami! Ma non mi venire addosso! Ah, porca vacca! Allora, fammi prendere la macchina, che voglio capire... Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Voglio capire... Ah, porca vacca i salti. Voglio capire cosa si può fare, oltre a dare calci a degli uomini nudi, sto gioco. Oh mio Dio, che brutta visuale! Ah! Ma si è attaccato! Io ho paurissima! Oddio, che paura! Che succede? C'hanno delle bombe! Troppo alto il volume! Ebbè? Checkpoint! Pinguino, porazio, no! Guardali come corrono! Devo abbassare il volume subito, però, aspetta! Aha! 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 Così va bene, dai! Guardali, guardali! Mi scusi! Pingu! Salto della falla! Ma non passa... Tadà! Non passatemi avanti, schifosi! Eeeh! Ok. Fuoristrada. E ho capito come non si può guidare! Buongiorno. 386 di divertimento, tra l'altro. Non l'avevo letto prima. Eeeh! Mi volano gli uomini nudi dal... Ah, scusa! Mi sposta! Ma non... Guardali tutti i nudi che corrono! Come fanno con il culo nudo ad essere più veloci di me? Scusami un attimo. Un anetto... Un anelotto l'ha abbandonato la partita? E quindi, quanto devo continuare io con questa gara? Non c'è una fine? Il tuo facello si è rovesciato! Succede! Certo! Un anelotto l'ha abbandonato la strada! Che succede? Perché? Beh! Ciao, Pingu! Mi sono molto divertito, effettivamente! Ah, vedi! Fine della gara! Ma è finita? Andata! Bravissimo io! Basta, basta, basta! Ho capito, ho capito, grazie! Niente, questo era un piccolo video sui magalli nudi e... E niente... E... Al prossimo video no! Perché lo disinstallo adesso, però... E invece salgo sulla montagna! Salgo sulla montagna! Salgo sulla montagna! Salgo sulla montagna! Dai! Eeeh! Scivolo, 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 scivolo... Niente, alla prossima! Al prossimo video! V incapazarlo! Viwatch dei violin proprio di QTSS! Grazie a tutti.